A Barletta abbiamo puntato sul teatro per dare anche a chi è solo in queste festività un luogo di incontro. Speriamo che ci sia un investimento economico anche per il prossimo anno, ha dichiarato Cosimo Cannito, sindaco di Barletta. È un capodanno che ha puntato sul teatro Curci a mezzanotte, un teatro che farà divertire e che è finalizzato ad incontrare persone che non stanno in famiglia, che vivono in una condizione di solitudine ma che intendono incontrarsi nel teatro Curci per festeggiare il nuovo anno. Abbiamo puntato anche su Denitis che è il nostro brand artistico, culturale più importante riducendo il costo del biglietto e invitando i cittadini e i turisti a visitare la nostra pinacoteca e poi ci sarà tutta quanta l'atmosfera legata alle luci natalizie e agli incontri che i cittadini di Barletta faranno in città, in particolare a mezzanotte.